3,2,1 siamo ma sono presentabile così un po' sdraiato bene eccoci qua siamo già in diretta ragazzi quindi banda i commenti avvio dalla trasmissione buonasera, buonasera a tutti allora ringraziamo Roberto Mancuso dalla regia di Lecce alla quale chiedo cortesemente di togliere di togliere il sottopancia l'enigma americano così si vede anche Salvatore Antonacci adesso sta per sistemare tutto la regia di Lecce allora collegati con noi c'è Gianni Colacione il quale ha attaccato qualcosa di strano ad un microfono che non si riesce a capire bene dalla sua il colore che ricorda le vittorie referendarie ah benissimo ok il colore che ricorda le vittorie referendarie di questo qui diciamo andremo a parlare adesso poi c'è Salvatore Antonacci che ci raggiungerà da qui a qualche minuto e poi collegata collegata da dal nord Italia esattamente dalla città di Modena se non sbaglio Silvana Bononcini giusto? Silvana ci sei? provincia di Modena provincia di Modena benissimo allora dalla provincia di Modena Silvana Bononcini da Roma Gianni Colacione Salvatore Antonacci si collega da dove? qualcuno lo sa? visto che assente in questo momento non si sa io so ah ecco Salvatore sei ritornato tu da dove ti stai collegando? benvenuto eccomi eccomi ciao Salvatore da dove ti stai collegando? benvenuto da dove ti stai collegando Salvatore? no sto da casa mia è come dire un po' sai quella domanda dici ma tu come vai a scuola? mi accompagna mia mamma no era andato a riprendere la mia tazza di caffè all'americana giusto? no no da quale città? da quale città? da quale città sei collegato? eh da Boston ovviamente da Boston? eh? vabbè da Lecce ah da Lecce allora abbiamo collegamento dalla provincia di Lecce dalla provincia di Catanzaro da Roma e dalla provincia di Modena e e poi c'è Roberto che da Lecce ci fa ci fa la regia allora abbiamo riavviato questa diretta questa è una nightline ben arrivata a tutti e buonasera buonasera anche ai nostri telespettatori della chat io sono Marco Marchese e vi farò compagnia più o meno per un quarto d'ora perché poi dopo vi dovrò lasciare per impegni concomitanti come usa dire io voglio apro diciamo la discussione che è centrata chiaramente posso parlare di tutto ma io centrerei la discussione chiaramente sui referendum che è la notizia del giorno e soprattutto sul discorso se sfanghiamo questo quorum oppure no secondo me le condizioni ci sono Lanza pochi minuti fa ha rilanciato ha fatto un lancio referendum e scrive il referendum e primi dati alle 22 sopra il 41% uno è chiuso e domani si vota alle 7 alle 15 allora io per aprire giusto la discussione faccio un mio primo commento che è questo se alle 22 si registra un 41% significa che secondo dove sono state fatte le rilevazioni se queste prime rilevazioni i comuni diciamo rilevati vengono più dal nord allora è probabile che sia un 39% se invece i primi comuni che sono stati rilevati sono del sud può darsi che invece di un 41 sia un 43 in ogni caso il dato mi sembra buono e che ci sono tutte le premesse affinché domani si raggiunga il quorum non è chiaramente ancora detto che il quorum sia raggiunto anche se c'è da essere abbastanza ottimisti e fiduciosi perché col 41% mancherebbe ancora il 9% e si sa che domani è una giornata lavorativa è vero che ci sono tutti quelli che sono rientrati stasera favoriti dalla bella giornata e che sono andati al mare e che domani andranno a votare però è anche vero che domani è una giornata lavorativa e quindi le cose diventano sempre più complicate possiamo partire da qui chi vuole prendere prima la parola io lascerei diciamo spazio alle donne quindi inviterei ad intervenire Silvana non ti parla ancora qui che c'è non ti abbiamo sentito Silvana in più dalla regia ci arrivano dei colpi importanti sulla tastiera del computer che ci massacrano il cervello un martellare frenetico un martellare frenetico è qualcuno che sta scrivendo con rabbia direi perché quei picchettini proprio indicano di qualcuno che sta o sta rispondendo diciamo a qualche mail in modo verenoso oppure a qualche messaggio con un certo trasporto scusami Silvana vuoi ti vado ad intervenire? no e faccio la parola perché sto ancora cercando un microfono ah benissimo benissimo allora nel frattempo che Silvana cerca un microfono io passerei la parola a Salvatore eccolo qui vabbè allora la scaletta è presto fatta penso che una buona parte la dedicheremo ai commenti su questa prima giornata di voto referendario poi magari mi riservo di intervenire su qualcosa scusami soltanto un attimo io chiederei alla regia visto che ho visto Luigi Luigi Mazzotta se magari può possiamo fare il tentativo se a tempo se vuole intervenire se lo vogliamo chiamare risponde magari lo mettiamo dentro e possiamo provare vai vai Salvatore ok beh vabbè comunque seguendo un po' il canovaccio di quello che tu già diciamo il tuo commento introduttivo Marco sì effettivamente ho l'impressione piuttosto fondata che alla fine il quorum si dovrebbe raggiungere si dovrebbe raggiungere con una percentuale credo abbastanza importante adesso fare previsioni è sempre è sempre azzardato però tra il 55 e il 60 io credo che dovremmo esserci credo che attorno al 13 14% giornata di lunedì dovrebbe scusami Salvatore Luigi sei in diretta su TV Radicale se vuoi puoi darci tranquillamente anche il tuo video e noi stavamo parlando del referendum se tu vuoi partecipare ci vuoi fare compagnia in questa nightline stiamo parlando chiaramente del raggiungimento del quorum stavamo commentando il lancio del lanza che sulle prime rilevazioni dell'affluenza alle urne alle ore 22 segnalava un 41% e Salvatore Antonacci non ho capito segnalava scusa il 41% alle 22 e c'è Salvatore che stava facendo il suo commento e che siamo chiaramente ottimisti e fiduciosi secondo Salvatore a cui ripasso diciamo la parola e diceva che questo qui può essere fuoriero di un risultato finale importante a suo giudizio fra il 55 e il 60% vai Salvatore sì peraltro avevo letto anche di ulteriori previsioni provenienti da diciamo siti di sondaggi area centrodestra abbastanza attendibili come scenari politici che davano cifre addirittura superiori adesso magari non mi spingo fino a questo però credo che le mie diciamo supposizioni magari possono avvicinarsi un po' alla realtà tenuto conto anche che effettivamente giornata lavorativa molto grosso della mobilitazione referendaria credo che si sia consumato oggi soprattutto diciamo nell'arco della mattinata pomeriggio ci ho detto per quanto riguarda personalmente io sono intervenuto diciamo non sono intervenuto molto su questa vicenda ho scritto un paio di articoletti sul mio blog poi sono stati ripresi diciamo su altri siti dove praticamente individuavo nella diciamo nella sconfitta governativa che parliamoci chiaro questa sarà senz'altro una un risultato che andrà a letto in chiave meramente politica al di là del diciamo dell'importanza o meno dei quesiti però il dato fondamentale che emergerà domani pomeriggio dopo lo scrutinio completato ancora prima secondo me è una sconfitta politica clamorosa da parte maggioranza di governo che ha deciso scientemente di non difendere le leggi che lei stessa aveva parato e questo secondo me è veramente votarsi e condannarsi alla sconfitta magari poi si perdeva comunque perché la mobilitazione la mobilitazione referendaria generalmente tende a favorire i promotori anche perché la parte avversa ha scelto ancora una volta la strategia dell'astenzione che ha pagato in anni precedenti però stavolta il non andate a votare sono referendum comunisti come magari questa volta ci sarebbe stato un po' da non è funzionato giustamente perché effettivamente se tu hai fatto delle leggi come discutibili come legittimo impedimento su cui ho votato sì altre diciamo che sono il mero recepimento di direttive europee tra l'altro votate anche dal centro-sinistra come il referendum sull'acqua sono il frutto di una forzatura ideologica inammissibile insomma almeno al mio punto di osservazione cioè voglio dire alla fine poi secondo me il governo ha deciso scientemente di suicidarsi quindi alla fine benvenga questa sconfitta se servirà a liberare le macerie magari per un nuovo per una nuova ripartenza che possa avere connotati un po' più liberali e meno e meno decisamente meno populisti avventuristici tutto qua bene Salvatore allora io prima di passare di nuovo vediamo se vuole intervenire se ha risolto se ha trovato il microfono Silvana prima di passargli la parola oppure a Gianni Colacione vorrei vorrei darvi anche un dato no ma più che un dato un'iniziativa di Calabria Radicale allora noi abbiamo messo a punto il nostro indirizzario e siamo riusciti a spedire a spedire poco più di 8000 email ce ne sono è un indirizzario il quale lo sperimentiamo la prima volta e abbiamo avuto sappiamo che abbiamo colpito circa 7000 bersagli nel senso che 1000 indirizzi non sono in funzione oppure la nostra mail è andata nella cartella spam e quindi siamo riusciti a colpire circa 7000 bersagli 7000 indirizzi mail di questi 7000 indirizzi mail abbiamo 800 notifiche di lettura e qualcuno ci ha anche risposto ci ha anche risposto e devo dirvi che questo qui è veramente incoraggente del clima che si era creato vi voglio leggere soltanto qualcuna di queste risposte sono arrivate perché alcune sono davvero significative e allora delle risposte che abbiamo avuto da quest'invio che abbiamo fatto sull'indirizzario ne recupero qualcuna allora vediamo ecco qua Ennio ci dice certo che il nostro messaggio è impostato in questo modo innanzitutto l'avevamo impostato a livello proprio personale abbiamo un programma che ci permette di fare queste cose il messaggio era ciao quindi la persona alla quale ci siamo indirizzati ciao Ennio ciao Maria ciao Salvatore domenica e lunedì si votano i quattro referendum è l'occasione per noi cittadini di riappropriarci di questa scheda elettorale per troppo tempo steggiata dalla partitocrazia quindi non ci interessa farti conoscere la nostra indicazione di voto ma facciamo appello affinché tu vada a votare per garantire in futuro la praticabilità di questa forma di consultazione che ha cambiato in molte occasioni il volto all'Italia e migliorato la società nonostante molti referendum siano stati traditi e ignorati per favore Ennio, Maria Giovanni, Nicola quello che è vai a votare per il referendum perché è importante grazie associazione calabra radicale allora qualcuna delle risposte Ennio ci scrive certo che andrò a votare saluti Francesco invece ci manda le sue iniziative che ha fatto attraverso YouTube con degli appelli poi c'è Donatella che ci dice sì lo farò già lavoro per le elezioni c'è Vittore che ci scrive certo che andrò a votare ci mancherebbe Cristina grazie cari amici fatto io e la mia famiglia abbiamo votato non ha no questa è una notifica di lettura Fabio vabbè Fabio ci scrive per cortesia rimuovendo i miei dati dai vostri archivi ci sta pure questa cosa qua monocromo cara calabra radicale come cittadino italiano vivente all'estero già date il mio voto temo purtroppo che come si sa per via di quel pasticcio combinato all'attuale governo e il suo ennesimo tentativo di sabotare il referendum che le voci di tutti noi italiani viventi all'estero non saranno valide e poi seguono un'altra trentina un'altra trentina di messaggi che adesso non vi sto a teggiare con leggere tutti allora Silvana se tu sei disponibile vuoi intervenire hai la parola oppure possiamo passare a Gianni passate pure io sono un po' impicciato allora guarda quando tu vuoi intervenire è sufficiente che ci dai cenno fai un fischio e noi ti passeremo subito la parola allora Gianni se vuoi fare tu un commento io nel frattempo controllo se c'è qualche altro lancio da parte dell'ANSA piuttosto che qualche altra agenzia di stampo prego Gianni grazie io diciamo che non ho delle grandi aspettative perché penso comunque sia che il quorum si dovrebbe raggiungere e superare abbondantemente sul diciamo la prospettiva politica sì poi ovviamente la strumentalizzazione politica scatterà da un minuto dopo la chiusura delle urne ovviamente da parte di Pietro da parte insomma ma è anche ci sta che non è niente di nuovo ma da un punto di vista ecco di di prospettiva da un punto di vista legislativo di ritorno a un commento diciamo su questi temi di approfondimento non ho grandi aspettative perché anche insomma la composizione del Parlamento non mi non mi ispira molta fiducia purtroppo dobbiamo dire la verità cioè la storia del referendum predispone molto male insomma se andiamo a vedere se ne sono stati traditi tantissimi e quindi l'unico aspetto effettivamente obiettivamente oggettivamente positivo è la rottura del trend appunto di fallimento del raggiungimento del quorum che diciamo è un precedente per il futuro cioè non c'è più questa parabola che andava sempre più in basso che era anche scoraggiante e che in qualche modo vedeva sempre questa cosa del referendum completamente disattesa dagli italiani e invece io inspiegabilmente non capisco allora perché vadano alle urne insomma cioè se non ti interessa nulla di questi diciamo questi appelli e questi ovviamente interpellato per questi motivi bisogna andare a votare le politiche Gianni Gianni scusami ti interrompo perché allora diffondiamo i dati che sono praticamente 8.091 comuni su 8.092 per cui è un dato di affluenza praticamente certo si parla di un'affluenza del 41,10% cioè sui servizi pubblici locali cioè 41,14 41,11 quindi siamo lì 41,10% secondo me torna al 60 vicino al 60 55 70 ecco perfetto voi avete diciamo questa io sono un po' meno sono fiducioso ma non come voi sono più sulle posizioni diciamo di Repubblica che dice quorum all'ultimo voto anche hanno appena aggiornato il loro sito il confronto alla 22 l'affluenza è già sopra il 41 comunque voglio dire moderatamente prudenti il Corriere Corriere.it invece dice quorum più vicino affluenza oltre il 41% anche loro sono fiduciosi il DM Cronos invece non ha ancora aggiornato il proprio sito e poi c'è sempre Lanza diciamo ferma sul lancio di prima sul 41% e quindi scusami Marco di dire che condividevo l'analisi in toto che ha fatto Gianni e mi auguro che in futuro l'arma referendaria sia ripresa con tutte le sue potenzialità per proporre magari non quei siti anche demagogici ma un chiaro programma di riforma per questo paese che ormai è sull'orlo del principio dopo 30 anni di berlusconismo e hai perfettamente ragione il mio socio io a questo punto per un commento passerei la parola a Luigi Luigi sei disponibile vuoi commentare anche tu se è il benvenuto allora io credo che se davvero si riesca a raggiungere questa volta il quorum significa che noi anche come radicali abbiamo la possibilità di aggregare nuove nuove persone perché tutte queste persone che sono rincorse al voto referendario lo hanno fatto anche in virtù del fatto che ci sono state le elezioni a Milano e quelle di Napoli che sono due grandi città che hanno sicuramente influito con la sconfitta del centro-destra alla rincorsa del voto referendario con questo voglio dire che questi voti di protesta che ci sono stati rappresentano anche diciamo una vogliamo dire una minoranza che benvenga questa minoranza di persone che sono stanche dei vari regimi che si sono alternati sia di centro-destra che se vogliamo anche di centro-sinistra perché il centro-sinistra ricordiamoci che ha preso una grossa batosta non è vero che ha vinto quindi noi potremmo ora incalzare per cercare di trovare nuove forme di aggregazione per esempio tutti questi giovani studenti universitari che in effetti io poi che ho partecipato al volantinaggio al tavolo referendare abbiamo distribuito più di 2000 volantini in poche ore ci siamo resi conto che molti di questi ragazzi si avvicinavano e non erano affatto diciamo condizionati da qualche partito politico era un voto di protesta hanno votato dei magistri San Napoli anche per protesta se vogliamo no quindi io lo vedo molto positivo per noi questo dato perché ci riappropriamo dello strumento referendario questo è molto importante anche per un rilancio prossimamente per quanto riguarda poi la politica sulle droghe le immigrazioni le carce insomma le nostre battaglie certo bene ragazzi io devo fare una piccola cosa allora passo la conduzione a secondo che è disponibile a Salvatore oppure a Gianni perché ho la necessità di salutarvi è stato diciamo un piacere stare con voi e quindi passo diciamo alle redini della diretta ringraziando Roberto che è silente ma ci sta ci sta diciamo facendo da regia da Lecce quindi chi prende chi prende la conduzione vai Salvatore Salvatore allora guarda ci alteriamo io Gianni no? va bene allora a te la conduzione questa trasmissione qui fra altre cose organizzata così velocissimamente è partita veramente bene io vi lascio una buonanotte buona serata buoni commenti buon quorum e a presto risentirci ciao buonanotte a tutti ragazzi ciao Luigi tu puoi restare Luigi Luigi non è finita sono io che vado via perché devo andare ma se tu hai piacere puoi restare tranquillamente va bene allora resta 5-10 minuti no no resta tranquillamente sono io che vi devo lasciare vi saluto e buonanotte ciao Marco ciao ciao di nuovo Marco 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 no dunque riprendiamo dopo la partenza di Marco questo ulteriore segmento di questione che si è trasformato in una in una vera e propria nightline dopo la dopo la diretta odierna che è già durata la bellezza di 5 ore è stata la seconda puntata di TV Radicale dalla ripresa avvenuta la scorsa 2 giugno mi sembra che adesso a fare un giudizio a cose praticamente finite tranne questa coda in questa coda serale mi sembra che le cose siano date abbastanza bene insomma certo il bacino di audience è sempre quello riusciamo a toccare ascolti di qualche decina di spettatori virtuali però non dispariamo secondo me dobbiamo vedere i grafici potremmo avere delle sorprese delle sorprese gradevoli magari potremmo avere a che fare con numeri più interessanti insomma o comunque teniamo conto che le web tv di solito tranne quelle dei grandi giornali eccetera eccetera ovviamente che hanno mezzi ben più ben più importanti dei nostri non è che non è che ve le gino su cifre molto più più alte insomma vabbè quello dei grandi giornali sì però altre realtà comparabili alle nostre anche quelle arrivano a qualche decina di benché vada qualche centinaio quindi bene o male mi sembra che da questo punto di vista anche oggi sia andata abbastanza bene non so se se vi sentite riconfortare la mia opinione insomma che ne dici Gianni io no io penso che senz'altro siamo è stata è stata c'è una anche anche stavolta una buona una buona conduzione una buona trasmissione abbiamo avuto in chat un numero secondo me soddisfacente però dobbiamo anche calcolare che io penso rientra un po' nel mezzo nel web diciamo che l'ascolto insomma è più vicino a un contatto più che l'ascolto c'è un passaggio che può essere fugace perché non è proprio del mezzo televisivo radiofonico che è più diciamo vicino a conciliare un ascolto prolungato di una trasmissione perché è proprio proprio del web il fatto che si apre una pagina web poi ce ne hai altre passi da una parte all'altra insomma è tutto più fugace più momentaneo anche per questo l'abbiamo articolata queste queste nostre trasmissioni in conduzioni che non vanno oltre un'ora insomma forse potremmo fare anche un po' di meno poi vediamo insomma perché poi anche nel parinzesso che pubblichiamo chi ci segue può seguire per dire una singola cosa anziché un'altra oppure di una o di tutte quante dei momenti rientro un pochino nel discorso del web però penso che sia importante che il fatto che comunque sia una ripetitività anche del contatto fugace fa sì che comunque sia la gente ci conosca cominci a a fare affidamento su questa nostra io direi quasi ritualità della trasmissione domenicale che è un modo diciamo per poi dopo ci sta di passaparola insomma no perché poi sempre facendo affidamento sul web che oggi è gran parte facebook non c'è niente da fare questa qua è una realtà che va presa in considerazione a macchia di lo parto con gli amici degli amici contatti e così via sappiamo come funziona si forma un passaparola che un pochino è anche involontario ed è virtuoso insomma per quanto riguarda una specie di moltiplicatore esattamente sì esattamente quindi insomma andiamo anche a pescare gente che non ci conosceva proprio grazie a un amico dell'amico l'amico dell'amico e così via tieni presente che appunto io credo che comunque siamo ancora in una fase pionieristica se pensiamo che a livello generale come Radicali Italiani ha lanciato la web tv l'anno passato per le regionali e poi dopo il tentativo diciamo è come dire è stato abbandonato cioè ci dà un po' l'idea quindi ci muoviamo su un terreno terra incognita come si può dire sì sì ma insomma è sempre una cosa amatoriale fatta con costi zero per quanto mi riguarda con appunto una collaborazione di incapaci con preti insomma almeno per quanto riguarda me stesso io posso metterci ecco la faccia d'ossa andare da una parte all'altra e chiedere informazioni cioè in un intervisto ho contributi però è ovvio che poi soprattutto all'occhio di chi è più avvezzo ha un lavoro un po' più rifinito ci sono tante cose che non vanno sbavature e quello è chiaramente con la pratica poi insomma si migliora però devo dire la verità il fatto che su web non siamo in molti perché insomma a fare questo tipo di cose a livello politico di divulgazione in campo radicale credo che non vuole dire ma insomma siamo pochissimi e questa cosa è stata colta anche da Radio Radicale domenica scorsa vuol dire che se non nella qualità diciamo della modalità però nelle argomentazioni insomma è interessante in qualche modo altrimenti insomma non sarebbe stata oggetto di attenzione che spero che poi si possa anche ripetere come penso anche che Marco Pannella che appunto volevo appunto ripetere a tutti coloro che stanno anche nella chat lo vedremo appunto con un'intervista per TV Radicale si è impegnato in una intervista per la quale lui appunto si è soffermato e si è cioè prima di appunto fare appunto registrarla a pensare appunto come porla cioè insomma almeno per quanto mi riguarda mi ha onorato non di una dichiarazione così insomma un passato come io immaginavo anzi sarei già stato lusingato perché insomma no è stata proprio una cosa insomma ben ragionata come se lui fosse stato ehm a una TV e ha tirato fuori tutto quanto quella che è poi insomma la sua retorica sapiente e i suoi cavalli di battaglia con Santoro con l'Apostro e così via insomma eh quindi insomma vuol dire che il nostro la nostra modalità di diffusione di contenuti radicali è un qualcosa di obiettivamente eh accattivante anche all'interno dell'ambiente radicale quindi insomma stiamo facendo del bene poi magari si può fare meglio sicuramente miglioreremo però insomma c'è anche pazienza vorrei coinvolgere anche Luigi che ne pensa del delle prospettive diciamo dello stato attuale prospettive anche future no del del mezzo che abbiamo che stiamo curando ma vedi Salvatore Giovanni io ho notato che in effetti se c'è ora questa quest'inizio come dire di partecipazione alla vita politica e sociale da parte nostra che insomma ci stiamo vedendo e stiamo organizzando queste cose così molto improvvisate se vogliamo credo che sia un fatto importantissimo perché poi alla fine cioè il nostro scopo deve essere quello che noi scompariremo nel senso che ci saranno talmente la web tv radicale sarà ormai andata così alla grande che non ci saranno neanche più i nostri interventi e magari ci saranno interventi di gente di un certo rilievo e questo è lo spirito diciamo con cui almeno io credo di poter intraprendere questo tipo di iniziativa nel senso che dobbiamo creare aggregazione ma per fare aggregazione ecco io non voglio essere diciamo berlusconiano perché non lo sono mai stato però credo che vada fatto diciamo un investimento proprio sulla pubblicità della web tv radicale cioè noi dobbiamo fare in modo che ci sia una persona che con un click di computer vada a visitare il nostro sito vada a vedere le scimmiette vada a seguire un po' le cose che accadono su questa diciamo forma innovativa se vogliamo di comunicazione e che ti porta poi direttamente a casa e quindi noi se riusciamo a coinvolgere persone e allora riusciamo nel nostro intento perché a quel punto poi non abbiamo più bisogno di parlare solamente noi radicali ma siamo stati bravi a portare gli altri a diciamo a parlare con noi dove loro hanno la possibilità di poter esprimersi liberamente così come siamo come web e quindi insomma per noi questo è il risultato più importante diciamo che ci deve portare voglio augurarmi che accada tutto questo noi sicuramente insomma stiamo facendo una un grande sforzo di eh di creatività sociale ecco eh di nuova informazione di eh di libertà soprattutto perché eh riteniamo che questo proprio potrebbe essere un momento importante in cui tutti si possono esprimere e tutti possano poi eh dire la loro sul su quello che accade eh della politica italiana delle cose che non funzionano di come dovrebbero funzionare insomma dobbiamo coinvolgere anche associazioni eh magari organizzare dibattiti perché ecco l'altro aspetto importante credo sia quello di organizzarci visto che noi siamo pochi almeno dall'inizio su eh sui palinzesti creare delle rubriche magari chi è esperto per esempio non lo so cioè si può fare di tutto questo è poco ma sicuro però se si magari c'è un un indirizzo non so Gianni ci parla di di una cosa l'antiproibizionismo con Claudio Asterz per dire eh tu ci fai una rubrica sul eh sul fatto qua dell'economia l'America cosa questo è interessante insomma mi piacerebbe approfondire ma forse più da vicino inizialmente più che voi e insomma gli argomenti sono sono tantissimi su cui si potrebbero creare delle piccole rubriche dove settimanalmente per esempio a livello politico eh uno che ci fa una rassegna politica di quello che è accaduto durante la settimana per esempio no? noi non lo possiamo fare giornalmente però settimanalmente lo si potrebbe fare sì tieni presente che ad esempio nella precedente edizione di TV Radicale eh io curavo una piccola rassegna di stampa internazionale diciamo un esperimento che era male esatto anche per esempio si la stampa internazionale per esempio di quello che sta accadendo nel mondo ci sono tante cose da fare quindi io vedo che da parte nostra c'è questo entusiasmo questa buona volontà speriamo possa andare avanti e appunto cercare di racimolare più persone associazioni politiche cioè noi noi non siamo grigli ovviamente ovviamente sì come dici tu giustamente la qualità e la varietà dei vari format è praticamente infinita quel che manca ancora al momento forse sono delle ulteriori energie perché alla fine poi ci contiamo in realtà sulla punta di due mani se non di una quindi sì senz'altro è prioritario questa crescita dal punto di vista della del personale per poter agevolmente diciamo dire magari saremo stati fondatori saremo stati fondatori della web di voi radicale no poi c'è anche soprattutto la continuità soprattutto la continuità perché ovviamente no vi voglio aprire una piccola cosa così potete dare una risposta anche insomma cioè noi dobbiamo pensare anche al fatto di Radio Radicale che ha perso ormai la convenzione cioè l'anno prossimo ok però hai capito cioè secondo me i soldi a Radio Radicale faranno i morti non Radio Radicale è finito secondo me sarà un paio d'anni quindi ci vuoi scusami scusami Luigi non ho non ho afferrato Radio Radicale la convenzione a Radio Radicale l'anno prossimo è finita ma io me la reitereranno sicuramente quasi tu dici rinnoveranno io sinceramente non ho visto i problemi visto i problemi dell'attuale governo mi sa che hanno tutto l'interesse ad avere una voce diciamo non per giudizialmente nemica ecco come può essere che ne so un Santoro un Radio Parlament è appunto si potrei anche essere bravi a giocare di sponda su questa poi diciamo no io mi voglio augurare che questa insomma Radio Radicale vada avanti ma io da quello che dalle notizie che mi arrivano non ci sono notizie comunque volevo dire da domani dovevo pensare ad altro quindi due anni sono lunghi sì ma voglio dire in caso di assenza di convenzione mi sentite? sì sì mi sembra che Marco ne abbia anche parlato una volta di questa cosa no io volevo soltanto dire che in assenza di convenzione si apre anche alla possibilità della pubblicità insomma che è fonte di reddito a cui io penso non si potrebbe rinunciare no sarebbe una grande novità però cioè la radio anche se non la convenzione finisce no la radio non muore però diventa privata come dite capito diventa non arrivano più soldi dallo Stato può prevedere una specie di azionariato popolare diffuso che ne so ognuno possiede una quota ci sono varie forme no di sì posso entrare Gianni c'è adesso interviene chiede di intervenire Silvana vai Silvana io io volevo fare una piccola analisi su questo risultato se diventa positivo domani si raggiunge il cuore sono veramente sarei contenta perché ci ho messo un po' di anni a raccogliere firme e ho visto vanificare un sacco di referendum però mi pare una grossa fregnazza scusate questa questa campagna referendaria è il risultato che ne viene in cuore chiaramente io voto tre no e sono ancora lì che penso a cosa fare sul legittimo impedimento perché l'informazione secondo me è stata fasulla completamente dimmi no no dicevo vabbè il dibattito è stato sovietizzato ma dalla fuga della controparte cioè un governo che non difende le sue leggi merita questo un dibattito sovietico no no ma chiaramente Berlusconi e il governo e il PDL stanno dando di matto io non sono qui a difenderli sapete benissimo che io sono con Benedetto e Fili quindi non esiste che si possa difendere una cosa del genere però mi fa paura anche il tutto che avanza il raglio che c'è dall'altra parte perché poi diventa la battaglia politica non più sul referendum ma per far fuori Berlusconi quindi è tutto un altro significato cioè io vorrei sapere quante persone che sono andate a votare siano andate per il quesito sapendo cosa voleva dire e invece quanti siano andati ancora perché hanno cioè se leggete i commenti su Facebook in giro c'è da farsi vedere la pelle d'oca per l'atteggiamento di molte persone ecco almeno poi io io so dove sto quindi non ho di questi problemi è una cosa trasversale un po' Silvano perché anche voglio dire che c'è vero questo effetto di curve contrapposte io vedo gente razionale eccetera che poi diceva stendiamoci stendiamoci fino a ieri avete difeso a spada tratta le decisioni sul nucleare sul ricevimento della direttiva europea sull'acqua e poi l'unica soluzione è quella di scappare non mi pare una cosa ce lo ripeto è chiaro che poi naturalmente da parte dei promotori vabbè sappiamo tutte le mistificazioni i promotori ce le entanate insomma ragazzi no ma dall'altra parte c'è della gente cioè io che ho visto un po' di trasmissioni l'unica persona seria che è stata è stata Giardino perché per controparte non c'era dialogo non c'era nulla che fosse razionale insomma quindi non è non è però che io mi ritrovi a far vedere vincere i sì sulla privatità sul referendum sull'acqua o vincere i sì su un referendum sul nucleare già superato perché hanno già accettato cioè a me pare tutto che siamo più o meno tutti fuori di testa non so come la metti dopo come come la sistemi per essere una persona che dice vabbè guardiamo quello che è la realtà dei fatti poi se questo mi permette di avere nuovamente lo strumento referendario e vedere che radicali italiani a cui io non sono scritta parta 33 referendum mi vada dio nel senso che so benissimo se servisse a far ripartire quell'ondata referendaria del 99 che molti anche in casa in casa nostra tendono a rimuovere perché si parlava di temi diciamo liberisti che sembra che sia ormai una offesa contro l'umanità insomma a suo tempo avevamo le nostre posizioni ben marcate se servisse ripeto a riprendere posizioni queste come anche quelle su lotte civili antiproibizioniste eccetera un disegno complessivo di società liberale quindi non demo fondamentalista come insomma certe derive a sinistra stanno a indicare insomma 41 e 14 diciamo Salvatore però dovremmo avere le forze per fare questo perché sai possiamo farlo però se non abbiamo i mezzi per il valore analizzando però la mutazione genetica dei radicali italiani perché c'è c'è un giro di personaggi che sono più sull'altro versante più io direi sinistroso più che liberale comunque va bene finché conduce Marco il discorso può essere accettabile se vince se passa se si fa il quorum sono contenta per il per lo strumento ma non per il risultato certo ovviamente è chiaro si condivido mi sento di condividere questo volevo dire intanto scusa volevo dire intanto però questo risultato ha destabilizzato un po' il regime brusconiano che su questo è in dubbio in modo troppo Luigi però con quale alternativa mi va benissimo io sono d'accordo però intanto noi abbiamo un po' rallentato questo regime chiaramente non vogliamo che ci sia pure l'altro regime ecco Luigi perché a me va bene hai capito quello che sto dicendo che per controparte hai un PD con Bersani che aveva ecco perché allora io mi chiedo a 60 anni dopo 30 anni di militanza e è ancora continua perché poi mi intruppano perché tanto sanno come Roberto mi conosce e altri mi conoscono cioè non è che muto la mia la mia identità il mio essere perché sono con benedetto quindi con io ti sto dicendo che hai un brigante e dall'altra parte ne hai un uguale più o meno io ho conosciuto diciamo un gruppo dai diciamo un gruppo ecco io ho conosciuto Bersani se la mette uno solo di là sì io ho conosciuto Bersani quando era presidente della regione Emilia Romagna ma è tutta un'altra persona adesso per per disfarsi di Berlusconi fa delle cose che cioè per me le dono anche la sua figura gli tiro se lo incontro gli chiedo cosa ha fumato per dirti perché non è Bersani non è Bersani quello che va a rimorchio di Di Pietro va a rimorchio cioè come non mi va bene quello delle lenzuolate diciamo non è quello non mi va bene la scelta di De Magistris a Napoli cioè non mi va bene neanche quell'altro però De Magistris era l'unico l'ultimo che doveva diventare sindaco a Napoli come sono contento di Pisapia con gli errori che farà a Milano per dirsi quindi non poi sai anche noi siamo come dicevo Silvana il fatto che noi siamo una piccola forza politica e però facciamo politica da 50 anni no con Pannella insomma cioè siamo veramente quelli che proponiamo la vera rivoluzione liberale di cui ormai tutti ne parlano oggi oggi si sentono tutti liberali chi a destra chi a sinistra allora io ti dico una cosa noi siamo contro i poteri la nostra lotta che è quella di stare sempre contro tutti i poteri Luigi di destra di sinistra di centro e ora bisogna lottare questo poi si deve lottare pure il potere il prossimo che arriverà che probabilmente non lo so cioè se è con questa facciamo una brutta film Luigi io ho avuto una grossa soddisfazione e l'ho scritto anche a Marco di vedere quella registrazione che hanno fatto Marco quando ha interrotto nel bar lì sotto dottore Argentina quando ha sospeso che l'hai visto nella sua magrezza sì quando ecco io a tutti quelli che conosco che ho mandato un'email ho mandato un link con sotto la dicitura così finalmente l'ha piantata di rompermi le palle e di venirmi a dire che Marco tanto mangia perché gli passano le foto di quando non fa la sciopera cioè un po' di cose secondo me si devono cambiare ma perché veramente è rotolato nel bidone nel fondo proprio sia Berlusconi ma anche quell'altra parte è logico anche l'altra parte è logico dove c'è tante le toni che muovono ecco e poi che cosa possiamo fare noi radicali io non ti so dire perché mentre vi seguivo che parlavate di queste belle tecniche e altro io ero qui a cercare un microfono devo correre come una deficiente e non ho più l'età non dobbiamo lottare contro i regimi questo dobbiamo fare dobbiamo vigilare dobbiamo vedere se veramente loro lavorano nella trasparenza se veramente si vuole condivido lo scopo però secondo me diciamo dovremmo affrontarlo da una posizione esterna mi rendo conto che insomma le difficoltà sono quelle che sono che è un dibattito vecchio come il cucco però per appoggiarmi a una delle due parti a una delle due cosche diciamo per dirla con linguaggio pannelliano secondo me non darà i suoi frutti anzi rischiamo di venire identificati come come gli amici via via di quello di quell'altro perché non vedo come cioè mentre scusa salvadore ora ti prendo intuire sulla realtà partitocratica italiana oggi la vedo molto dura questi sono sono scafati sono impermeabili a qualsiasi mutazione riforma questo che mi credo al di là di quello è scafata anche la società civile perché non è migliore di loro cioè invece capito i nostri stessi deputati che ci sono all'interno del partito democratico cioè io non so che cosa ci fanno là dentro capito cioè in altri anni avremmo rotto le palle tutti già scusate l'oxfordismo però dovrebbero uscire fuori dal palazzo diciamo io 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 il partito democratico sono delle spaccature micidiali il partito democratico non è più un partito e ormai insomma non c'è più una concezione di di vivere la sinistra la sinistra siamo noi ragazzi la vera sinistra siamo noi ma noi siamo siamo anche liberali ci mettiamo sinistra liberale è chiaro noi siamo la vera sinistra liberale potremmo per gli ideali per i nostri atti che fanno parte della vita comune delle persone per l'amore come dice Marco perché per tutti i diritti sia sociali sia economici ma non c'è niente non c'è la libertà alla fine questo è il problema posso dire una cosa? questo di Pietro tanto vado a prendere dentro la mia gatta ok ti aspettiamo tra poco ciao Gianni scusa volevi dire qualcosa sì sì no voglio anche aspettare Silvana magari perché insomma ha fatto delle affermazioni importanti e io per quanto riguarda queste votazioni soprattutto i referendum io mi sono sentito di con un'analisi realista di essere non troppo integralista perché ovviamente a questi a questi referendum secondo uno spirito liberale soprattutto per l'acqua bisognava votare no per il nucleare se si sarebbe dovuto votare sì perché il futuro perché la scienza perché la sperimentazione però tutti questi integralismi cozzano su una questione che purtroppo fondamentale che Montanelli diceva che si durava il naso quando votava io che bisognava andare a votare durandosi il naso io la chiamo riduzione del danno perché noi radicali siamo siamo liberali e siamo abbastanza voglio dire sappiamo che ci rifacciamo insomma abbiamo dei testi tra virgolette ma non diciamo sacri no ma autorevoli e personaggi autorevoli come possono essere non lo so in Audi e tanti altri insomma ma teniamo presente che Costoro che non sono più tra noi da molto tempo non si sono resi conto non possono sapere che in Italia un capitalismo un capitalismo non è mai non c'è mai stato in realtà cioè un'economia una prospettiva di economia liberale in Italia non c'è soprattutto per quanto riguarda la grande impresa allora io mi chiedo noi che andiamo appunto con le nostre idee alla mano però poi possiamo esigere votando no per esempio sull'acqua o votando per il nucleare possiamo illuderci di dare veramente un'ispirazione liberale a questo nostro voto liberista quando poi dopo la prassi e che dovrebbe essere gestita da delle conventicole di robisti che non sanno neanche dove sta di casa la concorrenza sono amaticati con camorra mafie tant'altro voglio dire queste qua sono considerazioni importanti che bisogna fare e allora e allora cioè io sinceramente mettere le mani dell'acqua nelle mani di Caltagirone e così via non mi sento ma non perché ovviamente non voglio il privato per esempio dell'acqua o qualsiasi altro servizio in concorrenza con lo Stato ma perché purtroppo dice perché lo Stato è efficace efficiente no ma perché purtroppo queste lobby dell'alta imprenditoria italiana che sono lobby vere e proprie sono assolutamente immutabili rispetto a se stesse da decenni con qualsiasi schieramento politico che sta al potere questi qua hanno una rete fitta di di relazioni i ricucci sono sempre il famoso quartierino effettivamente sono sempre gli stessi e se ne fottono di fornire un servizio decente perché sanno che non verranno né premiati né castigati per quello allora dall'altra parte io mi trovo la possibilità comunque sia che sia realizzata in a Napoli o a Milano di poter votare per una prospettiva di rottura con Pisapia ma anche con le magistris rispetto al passato cioè tu mi hai gestito male l'acqua che c'è in mano il comune beh io non ti faccio più diretti al sindaco incredibilmente verifico che la politica che è notoriamente sclerotizzata e quanto di peggio si può dire in Italia però al momento del voto se questo popolo di idioti che siamo si riappropria del significato del voto riesce a essere più dinamica del nostro tra virgolette capitalismo che è lobbistico che è intrallazzatore tre cartaro non conosce concorrenza sta sempre in affari che mette i rifiuti speciali di scarica abusiva e così via cioè è una riduzione del danno c'è una scelta del minor danno per questo che ecco per esempio tra tanti radicali anche Pannella stesso ha fatto diciamo indicazione per il SIP per quanto riguarda l'acqua il nucleare cioè io il nucleare sinceramente ragazzi qui noi ci stiamo morendo con la mondezza con i rifiuti con la mondezza quotidiana ci sono generazioni condannate da quello dall'amianto in Sardegna nascono gli agnelli con due teste impessato da come si chiama dai rifiuti quelli là militari dall'uranio impoverito non parliamo di Marghera non sappiamo gestire nulla di lontanamente pericoloso voi vogliamo parlare del nucleare cioè le nostre esperienze nucleari di Borgo Sabotino stanno i rifiuti speciali 2000 tonnellate di grafite radioattiva sta stoccata lì la nostra politica del trattamento dei rifiuti residui nucleari passa per i millimetri che stanno praticamente costituiscono dei bidoni di latta dove stanno questi rifiuti cioè questa è l'Italia noi non abbiamo un capitalismo io non capisco come si pretenda poi di dire di pensare o di aspirare a una politica liberale in Italia il capitalismo o bene o male la concorrenza che poi penso che sia una cosa un elemento fondamentale lo conoscono soltanto i negozianti che ogni giorno piccoli negozianti e risarcenti che ogni giorno si danno un ventà a qualcosa per poter non essere travolti dalla concorrenza che gli fa l'altro che gli sta al fianco o il grande centro commerciale perché per il resto è tutta quanta una assistenza una una scelta a patti con della gente improponibile cioè voglio dire Geronzi sappiamo Geronzi chi è è un pluri pregiudicato adesso non è che uno voglia fare giustizialista ma insomma diavolo anche in un capitalismo punto liberale quando tu stiamo parlando poi di dati specifici quindi c'è banca rotta tutta questa serie di cose qua un capitalismo maturo minimamente non dovrebbe spellere naturalmente sta gente noi in Italia questa gente sta sempre a galla con qualsiasi schieramento politico io a queste persone se posso non gli do a mano niente di pubblico tantomeno l'acqua questo poi comporterebbe una riflessione sull'Italia su quello che siamo perché poi ovviamente è un riflesso individuale singolo la concorrenza io credo che abbiamo un'autonomia ancora semisovietica in realtà perché la grande impresa italiana non conosce il rischio di impresa la grande impresa italiana quando sta in rischio comincia a piagni e dicevo io metto sull'astrico 10, 15, 30 mila persone e in qualche modo aiutatemi e e la aiutano e i grandi imprenditori dopo anni nonostante abbia dimostrato di non saper fare imprenditore continua a fare imprenditore non si capisce questo non è capitalismo cioè è una loggia mafiosa non lo so chi è massonica non lo so e qui ecco perché voglio dire penso che sia per questo che tra i radicali poi si trovano quelle che potrebbero apparire delle contraddizioni come chi va a votare sì per l'acqua o vuole sottrarre la gestione privata cioè la gestione privata cioè vi rendete conto che nelle nostre spiagge una semplice concessione d'accordo per quanto riguarda gli stabilimenti balneari ok sappiamo benissimo nei radicali che non vuol dire privatizzare la sabbia una spiaggia con benedemaniale ma negli effetti effettivamente se io vado a Ostia che è il lito di Roma e voglio chiedere secondo diritto costituzionalmente garantito di mettermi sul bagnasciuga perché a me mi deve essere garantita quella cosa perché sta scritta sulla costituzione non mi ci fanno entrare mi chiedono il biglietto perché? perché l'illegalità perché nessuno controlla perché il vigile urbano va là e prende la mazzetta cioè questa è la nostra imprenditoria e che gestisce bene i pubblici ecco una gestione un po' amara io volevo ricordarti c'è quel libro bellissimo di Ernesto Rossi Capitalismo inquinato che già delineava insomma tutta la situazione dell'Italia no? Capitalismo inquinato di Ernesto Rossi sì ma non so come si possa chiamare neanche capitalismo perché il capitalismo comporta anche una serie di il rischio il rischio di impresa la concorrenza c'è qui ma non è pensata li fanno pochi imprenditori che hanno 5, 6, 10 aziende su 11 partecipanti e sta qui nella migliore delle ipotesi perché non ci stanno poi dopo le mazzette eccetera su 10 partecipanti su 11 partecipanti 10 sono tutti quanti facenti capo una cordata chiaro che vinci l'appalto cioè scusa per esempio scusa se ti interrompo voi non pensate che sia arrivato anche il momento subito dopo l'anagrafe pubblica degli eletti che noi dovremo vedere presso insomma i nostri pubblicati dai nostri comuni anche l'anagrafe pubblica degli appalti perché almeno insomma sugli appalti uno può andare può andare a verificare la società può andare a verificare i soldi può andare a verificare il numero degli impiegati io penso che ogni pubblicità quando gestisce soprattutto degli beni pubblici e servizi pubblici sia doverosa e senz'altro potrebbe essere un deterrente però io purtroppo credo che il livello di corruzione che abbiamo in Italia ma è una cosa anche proprio a livello individuale proprio diffusissima endemica è tale che poi alla fine cioè qui in realtà alla base dei nostri problemi è una maturazione che necessita per avere una prospettiva di soluzione è una maturazione individuale cioè non siamo un collettivo noi siamo 60 milioni di individui l'uno contro l'altro che fino a ieri aveva le proprie case pulite come templi e buttava la mondezza fuori dalla finestra ma adesso lasciamo perdere Napoli cioè io vi posso dire che a Roma fino a una cinquantina di anni fa che non sto parlando della preistoria le borgate e questo Pasolini ce lo può insegnare le borgate si costruivano con i mattoni del Colosseo cioè la notte si andavano a pie i mattoni al Colosseo si riportavano un borgate e costruivano di casa cioè abusiva a dir poco cioè non c'è mai non c'è stato uno spirito adesso non voglio dire civico che forse anche poco ma di di collettività non neanche nazionalistico perché poi dopo di Gesù si fa il nazionalista siamo effettivamente gli uni contro gli altri poi ovviamente capita che il Bostine prende a palla al balzo e fa il discorso nord e sud adesso deve fare questa alta solida pagliacciata del battesimo del Po penso che non essendo riuscito a ottenere lo sgraio delle tasse da Tremonti credierà forse cercherà di vedere i nominativi di quelli che parteciano per chiedere delle esenzioni ad hoc per loro per potergli dar contentino perché deve riguadagnare un po' anche credito tra i suoi elettori cioè è tutto un prodomo propria così non si può andare avanti da Berlusconi che si fa che si è appropriato delle istituzioni in un modo ormai palese da stato prepascista ma anche agli altri partiti d'altra parte l'organizzazione anche economica è corporativista non c'è niente da fare cioè i tassinari a Roma ti fanno una rivolta perché tu gli puoi chiedere contestualmente la ricevuta in automatico o la fattura diventa un problema perché cioè sono dei riflessi corporativistici che è tutto tranne che l'attenzione e la protezione verso lo svolgimento di un servizio è invece soltanto la difesa di rendite e di posizione ma manca il mercato manca la concorrenza il mercato al regime non c'è la concorrenza non c'è il rischio di impresa cioè le nostre banche si sono salvate adesso parliamoci chiari noi ci pantiamo del fatto che il nostro sistema bancario si è salvato eccetera eccetera praticamente è tornata utile in questa grande temperie uno dei nostri questo grande difetto che è l'assenza del rischio minimo nell'impresa per cui le banche hanno prestato soldi sempre o a chi poi dopo te li ridava in altro modo quindi politici eccetera eccetera non importava che sapevi che non ti restituisse in soldi poi dopo parliamo insomma tanzi e così via oppure i voraci che però già dimostrano da averci i soldi non è che tu andavi e dici sai io voglio aprire questa 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 impresa voglio fare business guarda se tu ci credi come succede nelle banche americane adesso ti prendono in giro quelli perché dicono vedi quelli ma sì ma quelli adesso però per questi 50 anni ci hanno avuto un capitalismo senz'altro più degno del se chiamato tale di noi ovviamente anche lì ci sta un circuito che si è chiuso che adesso potrà cambiare non è che si può dire che voglio dire un sistema anglosassone capitalistico sia stato un sistema fallimentare è arrivato ovviamente anche lì è un momento di svolta a un ciclo che si è chiuso che dovranno rivedere alcune cose però ha garantito un benessere al mondo intero per un certo periodo indifferente noi stessi come no solo da salvatore si è mutolito ci sai salvatore lo vedo salvatore uno che è russa mi sa che è roberto ah ci stai anche tu allora dici cosa ne pensi Silvana di quello che ho detto Gianni stavo ragionando che con quello che dicevi tu dovremmo spararsi un colpo quando si arriva al capolina in cui praticamente occorre cioè ormai le toppe non bastano più bisogna necessariamente investire su una crescita che dà risultati a lungo termine ma che non ci siano io penso che non ci stanno altre soluzioni perché ormai quel pochino di credibilità che ancora abbiamo a livello internazionale con le rating e così via ma quella presto la perderemo dopodiché ci metteranno all'angolo e ci tratteranno come una crecia cominceranno a farci pesare che siamo più un debito che altro per l'Europa e finisce tutto e siamo arrivati al capolina al punto in cui dobbiamo diventare un paese un popolo e non una serie di etnie che stiamo lì uno contro l'altro regionalismi separatismi corporativismi tutte queste cose qui spero di aver recuperato la voce no? sì sì ah perfetto perfetto no volevo dire cioè il contesto internazionale Gianni non dimentichiamo che gli Stati Uniti ormai stanno con le pezze al culo quindi cioè la credibilità nostra è quella degli altri paesi occidentali ormai si sono si sono infilati in una spirale dalla quale sarà impossibile uscire in una maniera in una maniera così diciamo di investimenti massicce ormai devono cercare di tagliare quanto più possibile che fra un po' ci frana tutto addosso stiamo parlando di questo Gianni non di di mega progetti investimenti pubblici statali che ormai non sono impossibili no 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 ma non ci sanno soldi non ci sanno investiti siamo nei guai noi oppure loro capito è l'ottico eh sì ma l'agenda spirituale noi non abbiamo maturato l'idea che abbiamo vissuto per decenni e decenni materialmente quotidianamente al di sopra di ciò che ci potiamo permettere ma sono stati governanti a istitare questa questa convinzione sono perfettamente d'accordo però adesso è il momento di tornare indietro cioè quando ci vendono e ci spingono a me a comprare macchine rotte di collo che non è sostenibile ecologicamente da un punto di vista energetico da un punto di vista di inquinamento di traffico quando ci spingono a farci per ogni stanza un condizionatore perché così stiamo freschi dentro casa e poi quando arriva agosto li accendiamo e ci stanno i blackout perché non produciamo abbastanza energia e così via tutti questi particolarismi e fatevi vedere il termosifono autonomo perché ogni stanza ogni casa ogni cantina c'è tutta questa cosa estremamente involuta perché nella piccola proprietà perché la piccola proprietà deve essere come una una proprietà stato capisci? e senza investire il problema non è la proprietà privata Gianni il problema è che lo stato ha incentivato dei settori economici che alla fine poi sono crollati miseramente quello è il problema vedi l'immobiliare vedi le telecomunicazioni vedi un po' altri settori insomma hanno pompato il mercato ma sono stati gli stati non sono stati le corporation private quello è il problema è il dramma diciamo Stati Uniti Italia eccetera eccetera ma adesso io non so se ti ho ascoltato prima cioè il discorso degli Stati Uniti e le grandi adesso tutti quanti si stanno riportando ah sono arrivati questi vedi che fine hanno fatto che hanno fatto i bagordi hanno fatto gli spericolati io vorrei dire come appunto prima ho accennato ma non so se ti ho ascoltato cioè questi qua hanno governato il mondo economicamente per 50 anni e ci hanno ancora già per 50 anni quindi posso capire che un loro ciclo di un capitalismo forse non maturo ma che sicuramente ha più dignità di essere ha chiamato diciamo che era un capitalismo pesantemente diciamo pesantemente colluso colluso con il potere politico non è una giungla che viene descritta in tutta la manualistica di sinistra diciamo il capitalismo americano è un esempio di scuola dell'interventismo stata eh siamo guarda più o meno stanno arrivando a quella situazione lì se non che hanno una struttura sociale molto più un tessuto di imprenditoria diciamo diffusa molto più della nostra noi avevamo il nord Italia vabbè ma niente di paragonabile ma probabilmente c'è anche una selezione un imprenditore si assume il rischio che può sbagliare se sbaglia in qualche modo paga per i suoi qui la responsabilità l'esercizio della responsabilità come anche quello della libertà è una cosa che non è negletta in Italia si fanno le cose per cui si va sul sicuro sempre sul sicuro sul tranquillo sul garantito non è possibile cioè un capitalismo che si possa chiamattare non può andare un 7% fisso di remunerazione sul capitale a prescindere dal servizio che tu offri per quanto riguarda le acque e i servizi pubblici non è cosa non sta per questo hanno dipattuto a lungo ci sono anche le tesi contrarie non le puoi valutare solo in Italia nella gara d'appalto perché la gara d'appalto quando mi rappalto hai 10 anni tu me l'ha fatto dopo 10 anni la valutazione no anzi io voglio anche che il consumatore possa valutare perché tu devi fare anche devi dare dare anche un input come si può dire dare un feedback sul servizio ma a livello quotidiano se tu mi interrompi le poste i servizi postali e cazzo tu mi devi risarci mi devi rimborsare sì però le poste sono un settore privilegiato di competenza statale cioè io sarei per la privatizzazione integrale a sto punto no ma voglio dire da articolo mi ricordo che è il 2038 del codice civile ok che chiunque provoca un danno deve essere risarcito da chi l'ha provocato un danno ingiusto e dopodiché pubblico privato che sia non ci dovrebbe essere differenza eh no capisci qui per ottenere un risarcito adesso facciamo un altro esempio no tanto per dire le assicurazioni ah noi ci abbiamo questa cosa giustissima perché io non so per il pietato pietrare per carità che è una stronzata che ci imporano l'RC auto ed è sacrosanto non c'è niente da fare però da questo obbligo che noi abbiamo tutti gli italiani di fare un'assicurazione al cartello che fanno le assicurazioni eccepisco e diventa una cosa parastatale l'obbligo è sempre una cosa parastatale alla fine poi crea appunto quello che dici te il cartello tra le varie compagnie è ammazza una persona e non c'è quei due milioni d'euro da tirare fuori per rimborsare per risarcire una famiglia non dovrebbe essere obbligatorio chi se la sente di fare lo fa è una op chi non se la sente non guida volendo o guida si assume a rischio non dovrebbe essere obbligatorio cioè non facciamo queste posutopistiche se non c'è niente se siamo attivati al monopolio statale è chiaro che è una ipotesi mi sembra voglio dire rispetto a certi pericoli che l'abuso è una libertà cioè la possibilità non è mai una buscia il responsabile della tua libertà può portare io credo che è la responsabilità individuale naturalmente poi vabbè possiamo pensare che gli uomini siano i peggiori i criminali e che quindi hanno bisogno della tutela da parte di un poliziotto buono che quindi si incarica di aiutare noi poveri diciamo noi poveri ammalati di libertà a più mi di consigli io non la vedo così secondo me è lo Stato ovunque ovunque diciamo infila le sue no la sua influenza tende non dico a corrompere però perlomeno a limitare le libertà delle persone dove è possibile non fare a meno dello Stato io ho una macchina per fare dei danni allora o tu versi una specie di caparra anticipatrice perché pensi la vita di una persona può avere 500 mila euro un milione di euro di valore insomma e qua capita capita sotto in qualche modo tu lo devi esercita non c'è niente secondo me l'obbligo è giustificato ma da questo al passaggio che poi tutte quante le assicurazioni fanno cartello per cui diminuiscono i sinistri ma i premi restano sempre alti e tu non fai un sinistro per 20 anni non ti diminuiscono il premio è l'unico esito possibile Gianni altrimenti nominiamo una commissione autoriti di tipo sovietico che vigila su tutto con le solite conseguenze di efficienza di tutte le autoriti insomma alla fine poi è un cerchio che si è un serpente che si morde la coda effettivamente e poi alla fine il prodotto non può essere quello che è una struttura di mercato asfittica corporativa comandata da un gruppo di diciamo da una camarilla di corporativisti che si fa i suoi giochi e così non mica solo le assicurazioni auto purtroppo ragazzi c'è qualcuno che è rimasto io vi sto ascoltando vi sto ascoltando c'è tante cose veramente giuste positive cioè negative per l'Italia però positive per noi però io mi chiedevo ma Mancuso si sarà addormentato ma io lo vedo ridere lo vedo ridere a crepapelle diciamo ma è sveglio Mancuso l'ho bello io ho sentito russare prima ah e allora segnate in primo caso grande Silvana fate proprio la rivoluzione non russa ah va bene ragazzi siamo arrivati un'ora tarda o pare basta Polinia siamo arrivati ci lasciamo allora anche io ho vato via forza tv radicale cerchiamo di ampliare la partecipazione cerchiamo di avere qualche donna non per un riflesso di genere ma perché io Silvara aspetta ancora la tua conduzione sul testamento biologico mi pare che era o sbaglio no era l'eutanasia ah l'eutanasia sì ma devo infilarli in qualche modo non posso farlo da solo bisogna che mi infili io quando avete un quando avete il palinsesto per una ragione eh sì perché cioè io non sono d'accordo su alcune cose quindi mi spiegate come faccio a fare un dibattito quando vi devo dire sono d'accordo con voi non ha molto senso Silvara ce lo dici e fai ugualmente dici quello che vuoi che pensi qua non ci stanno mica problemi eh io adesso avremo un'intervista a una ragazza che ho trovato ieri lì all'associazione all'Assemblea della Sottellara che ce l'aveva quella di Cali e con Pannella ma era un contributo che ho pensato che noi manderemo ugualmente non è mica un problema ah dobbiamo no ma non è quello è che il dibattito è difficile anche per me capisci perché su moltissime cose sono d'accordo quindi se mi metti in conflitto con me stessa no come non voglio creare delle crisi esistenziali Silvana però è importante il tuo contributo allora ragazzi ho degli atti che stanno male un sacco di cose sono riuscito a prepararle in più adesso stasera ho visto che regge Skype ma altre volte altre volte io salto che quindi mi devo organizzare anche con Roberto capire ci conviene registrarlo come abbiamo fatto però questo qui è più stabile non so cosa sia se è l'ora o cosa beh si può registrare magari un'ora appunto di buona DSL e poi dopo se lo mandiamo capite va bene capite va bene ragazzi allora ci aggiorniamo eh sì ci risentiamo domenica prossima buonanotte a tutti quanti buonanotte anche a tutti coloro che ci seguono nella chat con l'americano non è che domani pomeriggio facciamo un'altra scatenata domani pomeriggio? facciamo un'altra tasmissione non lo so pomeriggio non credo prima cerchiamo di pensare qualcosa diamoci il tempo a pensare qualcosa prima di dirla no siccome vi conosco se fate come stasera io cercherò di non essere in linea e se facciamo il cuore un ragazzo chi vi tiene beh da me non non sono un entusiasta di questa consultazione andrò a votare ho fatto collo quindi cioè per dirti tranquilla non troverai uno che si mette a fare il balletto nudo per il raggiungimento del cuore mi sento molto meno tranquilla va bene ragazzi niente buonanotte Roberto tu dormi buonanotte a tutti buonanotte buonanotte a tutti quanti ci vediamo ciao ciao ti spegne ciao ciao spegniamo tutti sì ok ciao